Più promettente della sorella Sì, qui effettivamente è dimostrato un discreto talento Le manca qualcosa proprio per esplodere ad alti livelli Lucas Dauser, ora dalle parallele Lo ritroviamo alla sbarra E' da Germanico E c'è con una endo per preparare poi un lavoro su un braccio solo, bene Non è più così consueto trovare il lavoro su una sola mano E anche lui ha sbagliato, anche lui doveva andare dall'altra parte E vedi, ha mimetizzato bene l'errore ma non sfugge del tutto ai giurati Insomma sta facendo qualche vittima questa sbarra Una buona kache Una quast Ecco questo invece è buono Prima era una ribalco, in verità questa è la quast Invece è ora la parte finale Il doppio con un giro da Vitamini E un passettino all'atterraggio per Dauser Ma come detto pagherà l'errore Sì, un esercizio discreto Non di eccelso valore Però quella sfumatura Verrà a pagare Angelina Melnico